Lionel Messi Lionel Muti Muti Puro tu Puro io Muti Parlate po' Parlo come io Buonasera ragazzi Buonasera a te Siamo ancora vivi Siamo ancora vivi Grazie a Lionel Messi Partita Molto 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 difficile Partito è un po' Siamo partiti male Si Siamo partiti male Però Poi alla fine il colpo del campione Risolde la situazione Ha risolto il problema Però giochiamo male Massimo Ma peggi male Ma Giochiamo male Una squadra imbaurita Non lo so C'è stanno a un quarto d'ora Venti minuti dal inizio della partita Guardano l'orologio a quel tempo stanno Mi ha colpito che A 20-25 minuti Messi Guardavo l'orologio Se no non va bene Ci voleva una vittoria ed è arrivata Si ma assolutamente Una squadra contratta e compagnia bella Perchè tranne Messi che è un ex calciatore Te lo dico da te Dopo queste due o tre partite Eh E che la di 10-15 partite che gioco nel campionato Francesa si deve ritirare E poi la c'è sta Ha risolto il problema Si ha risolto il problema L'Argentino non viene riuscito a cambiare Non c'è nessun fuori pass Giocando male Però io sono convinto una cosa Non siamo questi qua Perchè l'hanno dimostrato Dall'amiche L'abbiamo dimostrato che non siamo questi qua Secondo me serviva questa vittoria Ha servito questa vittoria E' capace la psicologica Ma per la psicologica Si sono bloccato Perchè stiamo parlando di una nazionale Però alla fine è così Il pallone è E' tutto E' il pallone è il pallone E' il pallone è il pallone Non c'è nessuno Tu hai mettiti all'amica Nye di pallone Di pallone Palone è il pallone Nye di pallone Ogni pallone E' tutto Perchè il pallone? Al pallone è il pallone Non l' colle Anche la isolate Perchè l'Argentino deve andare avanti Il pallone è il pallone è benissimo come i giocatori, la città non è nascita, la città non è nascita, la città non è nascita ma adesso lasciamo stare, noi facciamo tutto per il diosso però ti ripeto, prima o poi è stata ritirata ma non è stata ritirata, prima o poi si deve ritirare perché se io faccio così è inguardabile, bisogna fare tutto anche con la pulizione quella che fa pulizionare è andata a 10 minuti a 2 minuti a 2 minuti sono prima messa fatta in amicina eh, ora c'è stato fuoco al petto, tutto certo fuoco al petto, fuoco al petto però, allora poi andiamo più avanti, andiamo avanti ragazzi, ora c'è da affrontare la Polonia, papà, la Polonia gioca a 4 punti la Polonia gioca male eh, ma la Polonia gioca male, però l'ha vincita a partito con l'Arabia eh, però tu devi vincere solo, perché se tu vinci fai a 6 punti e tutti i giochi sono fatti, perché poi quello che succede succederà là la Polonia rimane a 4, fai a 6 punti io ci credo, io ci credo come il futuro passava per prima ma, come, 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 come l'Arabia Saudita ti ho messo con la scossa eh, come l'Arabia Saudita ti ho messo con la straccia tu rischia? eh, assolutamente chi è l'Arabia Saudita? eh, ma chi è l'Arabia Saudita? ma chi è l'Arabia Saudita? ma chi è che tu mi stai messa? perchè sono riuscite per dire in Napoli che la Fai a Caprichino che c'è andato a Caprichino e già gli vinci a una nazionale ma che dà bello a fare con le nazionali? Non ti amo, comunque tu sarai Ma la cosa è che sta dicendo, non lo so, è stato a Napoli Lo so, veramente, non gli diciamo a Nantiarelli Però lo so, non gli ho visto che ho fatto la partita Ehi, no, ma sto parlando, gli ho visto, sto parlando della squadra Cioè, tu pigli l'aereo, la Capricchino, va arriva a Roma Fa' un anzitrono oceanico E il mio pupillo Fernandez ha fatto più quali? È entrato e ha fatto gol Occhio lungo, senza offizio, non è cosa tu Eh, vabbè, tu vieni sempre a me, non ti preoccupare, tu vieni sempre a me Tu vieni sempre a me, non sbaglio mai Non è l'altra, se mi sono un ufficio No, non mi scopo Eh, però questo ci ha dato una mano Lo prenderemo al momento opportuno Ocupola, se no, se no ci Eh, adesso stai, lo prenderemo al momento opportuno Non abbiate a battere a Polonia, perché è ben attimo a Polonia Dai ragazzi, ci crediamo, ci crediamo, io ci credo, tu ci credo Eh, assolutamente sì, sempre Forza a Getira sempre Pibe, pibe Lionel Messi, Diego Tulima Ben Pibe Ciao Ciao a you